Sandro Busatti, centrodestra a Città di Castello, si era tanto parlato nei mesi discorsi del taglio dei costi della politica, di cercare di non aumentare le tasse in un momento di estrema difficoltà. A che punto siamo? In pratica i tagli della politica in realtà si sono dimostrati un boomerang gravissimo per la nostra amministrazione in quanto oltre a non tagliare si è dovuta mettere nelle condizioni di sanare i debiti pregressi che erano stati causati dalle varie aziende controllate dal Comune. In particolare il caso di Polisport è eclatante, i capigruppo di maggioranza si compiacevano del risanamento del bilancio di Polisport, bilancio che è stato risanato con i soldi pubblici, ovvero con i soldi dei cittadini, con oltre 300 mila euro di soldoni di valuta contante che per cui sono stati non impiegati in modo diverso se non per quello di sanare debiti commessi, causati dall'amministrazione pubblica stessa e che in qualche modo avevano creato una condizione per cui Polisport doveva essere semplicemente chiusa perché non c'erano i presupposti per farla continuare ad esistere. Bene, fosse solo questo il danno ci potremmo accontentare, si fa per dire, ma in realtà la cosa grave è che il Comune continua in perterrito a non favorire in qualche modo una politica di sviluppo del nostro Comune, ma al contrario una semplice politica di mantenimento dello stato sociale imposto dall'amministrazione di sinistra che non consente più a nessuna azienda tifernata di sopravvivere, anche a fine anno, forse pochi lo sanno, ma tante aziende artigianali, tanti negozi, tante attività hanno chiuso, per non riaprire mai più proprio perché soffocate dalla tassazione, proprio perché impossibilitate ad agire per le attuali condizioni economiche. Bene, noi abbiamo proposto come centrodestra, anche nell'ultima commissione economica, di cercare di pensare al bilancio 2013 e per gli anni futuri di questo Comune inserendo delle voci di sviluppo, delle voci di supporto all'economia per far sì che, ad esempio, coloro che svolgono attività o vogliano aprire attività, soprattutto coloro che hanno attività nuove da portare nella nostra zona, possono essere detassati, possono avere per cui delle facilitazioni, degli abbattimenti notevoli di tassazione che consentano per cui di essere competitivi anche su questo mercato per attirare sviluppo economico, cosa che in questo momento nella nostra valle è totalmente azzerato.